buonasera benvenuti al palco 14 chiesa del crocifisso come avete visto in questo palco ci sono proposte che vengono da vari festival questa proposta viene dal festival pisa jazz è un gruppo capitanato da nico gori si chiama nico gloria e pisa jazz swing tented passo subito a presentare i musicisti perché poi brani penserà nico alla stazione ritmica vede bernardo guerra alla batteria nino pellegrini contrabbasso per giorgio pirro a pianoforte che si cambierà con piero frassi successivamente ai fiati davide silvestroni al trombone tommaso ghiacchio vello alla tromba ai sax renzo telloli o telloli dell'olio al sax alto e leonardo victorio al sax tenore alla voce mattia donati anche alla chitarra michela lombardi carinetto direzione arrangiamenti nico gori buon proseguimento grazie 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 a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. E a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. e a 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 tutti. e tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti.